Andrea una grandissima soddisfazione vincere un europeo proprio nella tua città una soddisfazione veramente immensa sono molto emozionato veramente per questa vittoria che volevo tanto oggi si è stato praticamente perfetto e questa lunghezza da recuperare e indovinato tutti i colpi e anche nel barrage poi con vitale si è riuscita a spuntare paolino è veramente un grandissimo della torre non è semplice batterlo veramente forte forte mi è andata bene dai affrontato praticamente i migliori specialisti italiani anche dei fortissimi stranieri e si è riuscito a mantenere sempre la concentrazione alta era quello che avevo perso ultimamente fortunatamente sono riuscito a rimanere concentrato sia ieri che oggi essendo in due giorni la gara e ce l'ho fatta dai le condizioni climatiche erano ideali non c'è stato nessun cambiamento di vento in questo weekend no veramente ha fatto dei giorni fantastici tempo perfetto caldo senza un filo di vento si sparava in maniera ideale veramente prossimi obiettivi prossimi obiettivi il mondiale vedremo ti ringrazio